guarda da lì, un pezzo molto grosso dalla sopra, vabbè allora togliamoci velo, vabbè anche noi qua, guarda che bello, guarda che fai queste cose che fa, bellissime, infatti aspetta una foto, però sembra, nono ma non si vede, non si può vedere, guarda che silenzio così lo sentiamo, è pazzesco madonna mia va bene eh certo